La direzione di base sulla polemica, quindi mi voglio anche fare in festa perché sono 23,46. Però non posso, ma congratuliamo il consigliere Loda, per il fatto che sicuramente abbia compreso con tanti di piccoli probabilisti, visto che tanto durante il scomandante sì la soluzione che la lasciarvi di cadere tutti. Mi ricordo ancora che se fosse che una sera bisogna qui in fece una domanda su cosa è il problema e si meravigliò questo fatto come si era così un'ottobbrica la situazione. Mi fa piacere che si sia riveduto, l'importante non è sbagliare, non sbagliare e far capire quando si è sbagliato. Per quanto riguarda il momento di questa sera, io voglio dire quanto servimento di un minore e cioè, allora, per quanto riguarda la preparazione, io vorrei dire chiaramente l'abbia a continuare. Questa legge, se mi interviene dei direttori del russone, non è stata fatta per far cassa come dichiarato di momenti della regione immaginata. Esplicemente questa attenzione è nata per semplificare la procedura di urbanistica. Se andate a chiedermi, se mi chiamavano parte di russone, questo obiettivo, obiettivo e condivido anch'io. Nella realtà, questa legge, come tutte le leggi che vedono prodotte e avreste in questa attenzione, concluderà veramente la vita all'interno di anni e anche di qui, perché si metta con un miniaturismo di verità in una situazione, tra l'altro, di non chiarezza delle parti organistiche, in cui qui non c'è chiedermino, qui c'è casino, perché in ogni regione ci sono nomi differenti, in ogni comune, in ogni regione ci sono nomi differenti. Io sto facendo un piccolo lavoro, fuori regione, sto parlando del Piemonte e non della strategia della Sicilia, e non per te, per te, per i clienti, tra lì, non riesco a capire perché le norme italiane siano così complesse, così complicate, così paraginose e così differenti tra un comune e l'altro. Ci sono dieci modi, io conosco, almeno dieci modi per migliorare la gente dei rifiuti. Non è possibile che il vero mondiale sia stato tenuto qualche del resto di un metro e a livello potente non si è mai capito come si possa stare migliorando i rifiuti. Ci sono almeno cinque modi per calcolare la curazione dei rifiuti. È una cosa che è assoluta. Io mi auguro che prima o poi si è già a questa propria, che si è già a dare un affidatore di un'altra cosa. Assente che le altre istruzioni possa avere il ruolo di vedere la partecipazione dei milioni di geni. Anche questo è un altro aspetto che non potrei descrivere a nessuna perché non ci crederebbe a nessuno. Allora, per quanto riguarda questa legge quindi che non si utilizza, molto socialmente l'aspetto più positivo di questa legge è il fatto che di una non ciò togmessa. E' chiaro che una legge del genere tre o quattro anni fa avrebbe portato all'anno. La popolazione selvaggia del territorio, che è una legge così, in mani due operatori che in tre o quattro anni fa si chiama la russa e il quadro di selvaggia. Per quanto noi non possiamo uscita. Oggi, di fronte alla crisi economica e di fronte a tanto che comunque da tutto il sito, ne vengono in mani, su quasi tutti i presentini di terreno liberi, sia con quello, io devo riconoscere, non tante le premesse sulle quali sistemi, che comunque un contributo, questa legge lo può usare, se mi dà un contributo risolvere, delle situazioni che non si possono ricordare. Cioè ci sono delle vecchie famiglie che hanno 20, 30, 40, 40, 50, 60 anni e che non si possono demolire, perché l'ottorazione diventa anche economica, perché la normativa di piano regolatore si scompa con la sensazione reale. Di fronte alla vostra inerte, di fronte al fatto che non vi siete ancora decisi a fare il piano regolatore, questa legge è l'ossessione a persone da più di voi. Per questa ragione io non sono d'accordo con il zoom che è stato fatto a livello stanzionale di persone che vogliono modificare tutto ciò che è modificato. Cioè, mettiamoci conto, è stata qualche cosa che c'è fatto, ogni ragione è modificata come un'ottore, ogni comune fa la gara che c'è di un'ottore modificata, abbiamo c'è degli attori che sono uno di verso l'altro, abbiamo le nostre depensative delle delle attenzioni, c'è il futuro sotto lecce, non va via, sono di peracetate dal Piemonte, voi invece di fare qui, pensate che il dipendente si va a pagare, quindi secondo me, la deliberazione di questa sera, del resto, la funzionale possibile, la truttiva del primo giro. Allora, su questo primo, noi dobbiamo verifici, che questa legge non dava la possibilità di costruire dove si poteva costruire il portato all'ordore, dava la possibilità di strutturare i piccoli, quindi non di costruire nuovi termini, ma dava la possibilità di liquidizzare la dove non si potevano realizzare il portato, ma c'è scritto, c'è di vendere alla qualità della qualità, non dobbiamo aver maniato queste cose, ma è naturale che si possa recuperare il patrimonio di l'inizio, è chiaro che quello non è vero, allora, arrivo a tutto, io però sostanzialmente, sostanzialmente, e non mi è capita spesso, anche perché sono lavorato, assieme a voi nelle commissioni, ma ho condiviso nella sostanza buona parte del testo naturalmente commissioni, anche se sarebbe stato più rigido, dei centri storici, di quante questioni, di maggior parte, ma non sto a riparare sull'uomo, mi chiedo però di provarmi in passamento, pochissime parole, e si inserisce nell'articolo 7, che adesso è diventato l'articolo 8, e cioè noi ci siamo tutelati, l'articolo 8, quello che dice, no, è l'articolo 7, che è diventato un uomo, è la verità, non vado a dire che è diventato un uomo, è un altro esempio, è una parola, praticamente, nell'attacco della verità, si dice che il l'articolo 8, che il 10% deve essere comunque presunto, cioè tipo, la questione di intervento di gestione delle società che ha risposto, su cui presenta il punto 6, nel presente del rendimento, dovrai garantire il rendimento in 8, di superficie dell'evento pubblico, fare almeno al 10% della superficie dell'arrizzamento, ricorrendo, ecco per tutto, alla facoltà di di gestione delle società di Stato, inutile, allora, io, innanzitutto, apprezzo al fatto che qui siano stati inseriti gli stani, se non mettiamo questo testo, ovviamente, non c'è accessione di comune, e quindi io sono d'accordo su questo punto della verità, però, proprio lei, di limitare la monetizzazione dell'Ostanza, anni, da reti piccoli, allora, questo testo di cui vi parlo brevemente, siccome nel piano regolatore, le concessioni invece semplici, che si possono andare per i terreni, siano a 3.200 quadrati, che vuol dire il fatto che l'edificio di 9.200 pubblici, io, con qualità, il fatto che non si debba, che si possa sentire lo Stato, che non c'erano, sono i terreni, siano a 9.200 pubblici, anche perché da quattro cattivi che ho fatto, sopra 9.200 pubblici viene un'accessione di armi di circa 2.100 metri, e penso che anche a livello oggettuale possa uscire anche, comunque, un buon parcheggio, un buon parco pubblico, riconosco che per gli elementi inferiori ci siano tutte le cessioni di armi di qualche, che sono scomiglienti, sia per il ricevere che per il ricevere, però, secondo me, dopo 9.200 pubblici, è giusto, non meglio la monetizzazione, ma perché la cessione di armi di qualche? Quindi, l'eventamento è il 3.000 pubblici, quindi l'eventamento di 9.200, sono i fisi di 3.000 pubblici, e loro sono abdominati. Allora, quindi vi proponiamo di meci, dopo la prova del 12, la frase delle 3.000 pubblici, se no avete un ubrigliore migliorno. Grazie.